Siamo qua, Fulvio ciao, abbiamo il giornale di oggi. Volevamo solo dirti che niente, non ti preoccupare tanto della tua scrivania, oramai è di nostra proprietà. Abbiamo il tachiflu, stiamo perseverando per verificare cosa si possa fare. E ora i colleghi ti lasceranno un videomessaggio importante. Prego. Tu cade il governo e tu non ci sei, è un disastro. È la tua giornata di gloria. Sta arrivando anche la nostra collega, prego, un videomessaggio per Fulvio. Eccoci qua. Fra un po' arriverà anche probabilmente Anna, ma non te la facciamo vedere perché tanto l'hai già vista. E quindi basta così per oggi monodose. Un salutino a Fulvio, pronti, uno, due, tre, pronti via, ciao Fulvio! Finca quando siete veramente espansivi, eh. Stop, vediamo.